Il senatore Antonio De Poli è intervenuto in merito al nuovo decreto del governo chiedendo aiuti per le imprese che vanno tutelate e uno stop alle tasse. Sentiamo. Dal governo finora solo tanti ritardi e tanta confusione. Il tessuto sociale ed economico va tutelato. Noi chiediamo di sospendere le tasse almeno fino al giugno del 2021 e indennizzare chi è costretto a chiudere.